E buon pomeriggio a tutti raga benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Andiamo a completare la missione in questione Esattamente questo qua Apri il kit missione poi piazza lo disturbatore di segnale Dovrete esattamente ragazzi arrivare qui dove sono andato io Precisamente in questa location esatta qua Qui tac esattamente qui Prendere questo disturbatore raga vedete E poi andare esattamente vedete abbiamo una roba dietro lo zaino praticamente E dovremo esattamente poi andare esattamente in quella posizione Lì la missione è veramente semplicissima C'è anche la possibilità di fare questa missione a quanto vedo All'ago languido ma all'ago languido non so proprio come si possa completare Dunque raga vi consiglio di venire qui a potere pannocchia E come potete vedere c'è proprio schiera disturbatore Quindi facciamo tac e la missione viene automaticamente completata Qua è stato il video ragazzi fatemi sapere come e dove soprattutto si trova Se avete provato a farla anche all'ago languido Bene ragazzuoli un bacione grandissimo